Chi che avevamo detto serve sicuramente intensità, per minima della partita con Alessandro, serve intensità, umiltà e tanto lavoro. Insomma è arrivato un risultato che mi pare non faccia una piega. Sì, intensità, umiltà e tanto lavoro, ma comunque c'è stata richiesta mentalità dal primo all'ultimo minuto e penso che stasera l'abbiamo dimostrato e deve essere solo la strada giusta da percorrere. Quindi questa partita è andata bene, l'atteggiamento era giustissimo e come l'abbiamo messo stasera dobbiamo sempre continuare, come abbiamo anche già fatto secondo me, continuare sempre su questa strada. È una squadra che sta crescendo da quello che abbiamo visto. Già a Monza ha visto uno step in più rispetto alle gare precedenti, stasera vabbè, al di là del fatto che l'abbiamo messa subito in discesa, però insomma fino all'ultimo sul pezzo e questa mi pare la cosa importante. Sì, anche a Monza si è fatto un altro step e comunque come ho detto prima, l'atteggiamento era quello giusto e fino alla fine abbiamo cercato di limare al minimo gli errori e ogni partita dovremmo sempre cercare di farne sempre di meno. E adesso ci attende fra pochi giorni una gara che lì proprio di errori non ce ne possiamo permettere neanche uno. Sì, diciamo che è una finale in Coppa e comunque dobbiamo stare tranquilli e continuare a sfruttare comunque l'andamento positivo che abbiamo. È una partita veramente fondamentale, però dobbiamo affrontarla con la testa libera, con l'atteggiamento positivo di chi sa che ce la può fare e saremo sicuramente pronti il giovedì ad affrontare di sempre.